Andiamo a New York perché ci sono migliaia di persone che sono in cammino da più di una settimana dall'Honduras dirette verso gli Stati Uniti, la corrispondente Giovanna Botteri. La strada per migliaia di hondureni che fuggono dalla violenza e dalla miseria, la strada che sognano di percorrere per arrivare negli Stati Uniti è lunga e impossibile ed è già bloccata su questo ponte, su questo fiume che segna il confine tra Guatemala e Messico. Il primo stop all'immensa carovana con la gente che si getta in acqua, che cerca disperatamente con i bambini perché sono intere famiglie che si sono portate dietro i bambini di attraversare il confine. Dopo gli scontri il Messico ha accettato di far passare i migranti ma solo controllandoli uno per uno. Così la gente si butta, continua a buttarsi nel fiume cercando di essere nei primi gruppi esaminati dall'immigration messicana. Qualcuno riesce a passare ed inizia il lungo cammino verso la frontiera degli Stati Uniti che resterà chiusa per loro. Oggi ancora una volta il Presidente Trump l'ha ripetuto. Non faremo passare questi illegali, non faremo passare questi immigrati clandestini pericolosi per il nostro paese. Trump è in piena campagna elettorale, parla di emergenza nazionale, dice che i democratici vogliono questa massa di immigrati pericolosi entrare negli Stati Uniti, prendere il posto di lavoro degli americani. In realtà le voci degli immigrati parlano di miseria, di povertà e di speranza di un futuro migliore. Ti restituisco la linea. Grazie Giovanna, noi cambiamo argomento e apriamo.